...importanza, prima 5-6 anni fa, fortunatamente stiamo vedendo che è veramente pieno, veramente ormai nelle zone più disagiate, bene o male, la banda larga sta arrivando, può essere col cavo, può essere con la rete cedulare, può essere con qualunque tecnologia, ma comunque la banda larga sta arrivando. Dove invece c'è tantissimo lavoro da fare, e qui devo dire purtroppo l'Italia e la Grecia sono i falliti di juda, con largo di stato, con spazio...